Maddalena Capalbi oggi riceve l'Ambrogino per un progetto che riguarda il carcere di Bollate legato anche all'arte e in particolar modo alla poesia, ci spiega? Sì, infatti, sono più di dieci anni che coordino il laboratorio di poesia nel secondo caso di riduzione di Bollate il laboratorio è frequentato dai detenuti sia maschi che femmine e questa è una prerogativa, diciamo, nell'ambito di questo progetto forse unico in Italia dove lavorano donne e uomini insieme e a prescindere dalla presenza femminile c'è anche la presenza di molti stranieri per cui cerchiamo di creare un sodalizio tra la lingua italiana e quella straniera ovviamente cercando di evitare sovrapposizioni di genere il laboratorio lo seguiamo, lo facciamo ormai da tutti i sabati, la mattina anche quando non è possibile cerchiamo di seguire i ragazzi specialmente se escono all'esterno ci diamo da fare, sono coadjuvata da Paolo Barbieri e da Anna Maria Carpi che è un'altra politessa e questo, realizziamo ogni anno a fine anno scolastico un'antologia dove inseriamo i versi più belli che hanno prodotto durante l'anno i detenuti e viene presentata, aiutata ovviamente anche dal comune, dall'istituzione nei posti più prestigiosi tipo Marazzo, Marino eccetera ma la cosa più importante è che cerchiamo quantomeno non certo di contare sulla riabilitazione del detenuto ma quantomeno di far capire che esiste un altro linguaggio oltre a quello conosciuto da loro che è quello della strada eccetera un altro linguaggio dove poter capire che esiste un'altra vita un altro modo di approccio quindi la poesia secondo lei, da quanto avete potuto riscontrare voi può essere un mezzo di recupero, può aiutare il recupero? Guardi, io non parlo proprio di recupero ma comunque di apprezzamento di un linguaggio esterno al carcere la cosa più bella che esiste in questo laboratorio per quanto mi riguarda e quello che penso è la generosità di queste persone perché riusciamo, conquistando la loro fiducia a far uscire fuori i punti più deboli i punti più oscuri ma non nel senso deleterio dei punti nascosti, diciamo, dei ragazzi e delle ragazze